Buongiorno e benvenuti alla Special Corps Team Siamo nella sede della Special Corps Team a Roma nel quartiere Centocelle dove l'associazione svolge attività ludico-sportive legate al soft air e all'IDPA Sono Antonio Bruno, mi occupo dell'IDPA all'interno dell'associazione che è l'International Defense Pistol Association che in collaborazione con l'Arsenal Firearms vuole proporvi l'esperienza del tiro a fuoco quindi del tiro difensivo con pistola poi abbiamo anche il soft air all'interno della nostra associazione Con il soft air vogliamo proporre un gioco basato sulla simulazione e sull'onestà Il gruppo quando esce si attrezza di tutto l'abbigliamento possibile per iniziare il gioco Il soft air è uno sport avventura basato sulle tattiche militari dove la vittoria è data dall'onestà del mio avversario Mi raccomando ragazzi, dichiaratevi le ali divertiamoci non facciamo casino dobbiamo vincere e dobbiamo divertirci non facciamo casino non facciamo casino non facciamo casino Questo è quello che noi facciamo Ti aspettiamo Ora tutti a mangiare